Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, due chilometri di coda per incidente tra Valdichiana e Chiusi. Sulla FIPILI in direzione Pisa ci sono code per incidente tra Navacchio, Visignano e Pisa Nord-Est. Sulla FIPILI per lavori di manutenzione al viadotto del Turbone, possibili disagi in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Sul raccordo Siena-Firenze, possibili disagi per lavori e scambio di carreggiata tra Tavarnelle e San Donato. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Buoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!